Si chiama Liudmila R ed è una donna che sarebbe stata dichiarata colpevole di omicidio, ma le sarebbe stato risparmiato il carcere dopo che sarebbe riuscita a provare le violenze fisiche e psicologiche a cui sarebbe stata sottoposta. La donna avrebbe fatto fuori il figlio con un affedellato in testa, poi lo avrebbe smembrato in 70 pezzi, 63 anni di età, questa è l'età anagrafica della donna la quale avrebbe deciso di far fuori il suo stesso figlio perché sarebbe stata costretta a subire a lungo i, diciamo così, atteggiamenti tirannici, quindi monarchici, che la stessa avrebbe tenuto nei suoi confronti, nei suoi stessi riguardi. Vi ringrazio per l'ascolto, questa storia deriva dall'estero, non qui in Italia, la donna avrebbe detto e si sarebbe giustificata dicendo non sopportavo più le sue tirannie, parlando ovviamente delle tirannie che il figlio avrebbe operato nei confronti della mamma e della madre che si chiama, ripeto, Lyudmila R. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.